pagando 200 mila euro. A suo carico vi sarebbero intercettazioni telefoniche che documentano le fasi del pagamento. L'arresto è stato chiesto dal PM della DDA Giuseppe D'Amico ed è stato disposto dal GIP Alessandro Sant'Angelo. Nei confronti dell'assessore Lombardo Domenico Zambetti è stato ipotizzato anche il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Il governatore Formigoni non prende in considerazione l'ipotesi di lasciare la presidenza della Lombardia alle domande dei cronisti a margine di un evento a Milano su sue possibili dimissioni. Il governatore ha risposto l'accusa estremamente grave riguarda l'assessore Zambetti che è già stato sollevato dal suo incarico. Determinante nelle prossime ore sarà la posizione del Carroccio Lombardo. Il segretario nazionale della Lega Lombarda Matteo Salvini ha affermato che la Lega Nord è nata per combattere mostri come l'Andrangheta. Roberto Maroni è stato nei fatti il miglior ministro antimafia di sempre. La Lombardia ha sempre reagito e lo farà anche ora. Attendiamo notizie sull'arresto di Zambetti. Ho disdetto altri appuntamenti e ho convocato una riunione del gruppo della Lega già questa sera. Riunione tra l'altro che è in corso proprio in questo momento. Se ci saranno novità vi tarremo.